Pace fatta tra l'assessore comunale Eugenio Catani e il dirigente del settore ambiente ed ecologia del comune di Gela, Emanuele Tuccio. Questa mattina i due si sono incontrati al palazzo di città e dopo l'incontro a Porti Chiuse hanno chiarito la vicenda. Ieri si era verificato un fatto increscioso nei locali municipali di Viale Mediterraneo. E' proprio lo stesso assessore a raccontare la versione dei fatti. Un colloquio animato, può essere stato animato, può essere stato duro su delle cose di funzione amministrativa. Perché il protocollo, abbiamo due postazioni dentro il plesso, ma tutte e due non protocollavano le cose del settore sport ed eventi. Il dirigente Tuccio aveva le sue ragioni, io avevo le mie perché la polizia di Vincenzo Presti e il Palacossiga devono essere rimessi in ordine. Ci siamo coordinati malamente, poi qualcuno ha strumentalizzato la questione a livello politico. I nostri rapporti personali che vanno al di là di quelli lavorativi sono sempre ottimi. Ma l'aggressione verbale e fisica c'è stata? Non c'è stata nessuna aggressione fisica o verbale in ruenda. C'è stata una discussione come avviene in tutti gli ambienti di lavoro e sono sicuro che chi lavora in un pubblico, nel privato, qualche alterco con i suoi colleghi li ha sempre avuti. Quando è caduto non fa il bene della città? Quando è caduto non fa il bene della città. Doveva essere senza dubbio rimanere nelle porte del nostro ente perché noi lavoriamo entrambi, sia il dirigente che la politica, per il bene della città. Il nostro interesse è quello di fare il bene della città e quando c'è anche da chiarire alcune note, alcuni atti, bisogna farlo anche in maniera dura. Il confronto è sempre serrato e io sono disponibile al confronto con tutti. In Consiglio Comunale ieri non ho smendito perché poi a un certo punto la seduta si è interrotta. Abbiamo preferito per non dare modo ai consiglieri di annullare la seduta per il bilancio, la stessa cosa ha fatto l'architetto Tuccio che doveva essere presente pure lui, per evitare che questo venisse strumentalizzato politicamente da parte di chi nei precedenti cinque anni non ha saputo amministrare questa città. Lei ha parlato col sindaco stamattina e cosa vi siete detti? Sindaco è sereno, io ho la piena fiducia del sindaco, sono un uomo di sua fiducia e rimango, il mio mandato è sempre nelle sue mani e quando vuole mi può togliere l'incarico oppure affidare altre delega.